bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono la realizzata cancelletto 1 come tutti sapranno qualche giorno fa c'è stata la partita genoa juventus la juventus ha giocato male ha perso 3 a 1 e praticamente è grave la cosa è grave perché ha fatto tre sconfitte in campionato e di una gravità assoluta questa cosa secondo me la juve non vincerà lo scudetto lo vincerà il milan e niente guardate questo video lasciate dei like e commentate arrivederci al prossimo video